E ciao a tutti amici di YouTube, io sono Fabio ed oggi finalmente è il momento di aggiornare Windows 10 partendo dalla versione di maggio 2019, ovvero la 19.03 ed arrivando alla novembre 2019, quindi la 19.09, che è stata rilasciata in questi giorni qui me lo segnala come aggiornamento facoltativo, probabilmente perché ho l'edizione Enterprise ma comunque voi di norma dovreste avere un'edizione home o al limite pro e ve lo dovrebbe segnalare come aggiornamento obbligatorio forse allora non aspettatevi chissà cosa da questo cambio di build le maggiori novità saranno introdotte con l'update di primavera 2020 perciò sì ci sono varie novità e vi do giusto qualche anteprima ora che poi le andremo a vedere dopo l'installazione di questo aggiornamento perché chiaramente ora non ve la posso far vedere visto che non è installato per esempio abbiamo l'evento aggiunto nel calendario, le notifiche più comprensibili e personalizzabili il key ruling, il key rotation, insomma modifiche che non cambiano corposamente il sistema operativo sia a livello grafico che funzionale però che possono insomma essere interessante per certi aspetti sicuramente ci saranno anche delle prestazioni migliorate per quanto riguarda la durata della batteria e migliore gestione dell'hardware in generale allora andiamo subito a scaricare e successivamente ad installare come prima novità che vi ho introdotto precedentemente riguarda la creazione rapida di un evento nel calendario quello accessibile dalla barra delle applicazioni per fare ciò basta semplicemente selezionare la data e l'ora e verrà avviato il riquadro per aggiungere l'evento seconda novità riguarda gli assistenti digitali di terze parti come Alexa che possono essere attivati anche sulla schermata di blocco utilizzando la propria voce le opzioni per configurare e disattivare le notifiche vengono mostrate direttamente sul banner di notifica per visualizzare le opzioni è sufficiente fare clic con il tasto destro del mouse su una notifica o cliccare sulla nuova icona ingranaggio a comparsa presente sul banner nella sezione delle notifiche sono state aggiunte delle immagini template per mostrare all'utente cosa si intende per banner di notifica e centro notifiche in modo da rendere le impostazioni più accessibili e comprensibili è stata poi aggiunta la funzione gestisci notifiche nella parte superiore del centro notifiche che permette di avviare la pagina principale delle impostazioni notifiche e azioni le opzioni delle notifiche in impostazioni sistema notifiche azioni ora mostreranno automaticamente i mittenti delle notifiche in base all'ultima notifica ricevuta anziché al nome del mittente ciò semplifica la ricerca e la configurazione di mittenti frequenti e recenti inoltre è stata anche aggiunta un'impostazione per disattivare la riproduzione dell'audio quando vengono visualizzate le notifiche il menu di navigazione, quello a sinistra e start si espande automaticamente al passaggio del puntatore del mouse per informare meglio dove si va a cliccare queste sono le principali novità le secondarie invece ve le elenco senza andare troppo nei dettagli migliorata la durata della batteria e l'efficienza energetica di alcuni processori la casella di ricerca di Esplora File è stata aggiornata e ora utilizza la stessa tecnologia di ricerca Windows grazie a questa modifica sarà possibile anche visualizzare i file online di OneDrive il narratore e le altre tecnologie assistive adesso sono in grado di leggere la posizione del tasto FN sulle tastiere e in quale stato si trova, quindi bloccato o sbloccato i containers di Windows richiedevano l'host e la versione corrispondente del container questo limitava i clienti e i container di Windows a supportare scenari di container in versione mista questo aggiornamento include 5 correzioni per risolvere questo problema e consentire all'host di eseguire containers di livello inferiore a livello di isolamento del processo una correzione per permettere agli OEM di ridurre la latenza durante l'utilizzo della penna in base alle capacità hardware dei propri dispositivi nuove funzioni Key Rolling e Key Rotation che permette di salvare in modo sicuro le password di AAD nei sistemi MDM su richiesta dagli strumenti Microsoft Intune o MDM ogni volta che viene utilizzata la password di ripristino per sbloccare l'unità protetta BitLooker questa funzionalità consentirà di impedire la divulgazione accidentale della password di recupero come parte dello sblocco manuale dell'unità BitLooker naturalmente da parte degli utenti una CPU può avere più core preferiti per fornire prestazioni e affidabilità migliori è stata implementata questa politica di rotazione che distribuisce il lavoro in modo più equo tra questi core preferiti Microsoft Defender Credential Guard è stata abilitata nei dispositivi ARM64 per una protezione aggiuntiva contro il furto di credenziali per le aziende che implementavano appunto dispositivi ARM64 nelle loro organizzazioni le aziende possono modificare i criteri di Windows 10 in modalità S per distribuire le app tradizionali quindi le Win32 attraverso Intune aggiunte nuove funzionalità per il debug dei processori Intel questa impostazione è importante poi solo per i produttori di hardware miglioramenti per i PC tablet degli OM e rilascio dei loro aggiornamenti attraverso Windows Update risolto un problema per cui sui dispositivi con funzionalità LTE alcune SIM di determinati gestori non funzionavano correttamente risolti diversi problemi che restituivano un errore durante il controllo degli aggiornamenti se volete approfondire l'argomento vi lascio in descrizione l'articolo di Windows Blog Italia così potete anche leggere il restante degli approfondimenti legati a queste novità Microsoft lo aveva già annunciato questo 19H2 sarebbe stato un service pack di solito l'azienda ne rilascia due di aggiornamenti importanti durante l'anno ma stavolta vuole concentrare tutte le energie in una sola versione in modo tale da prepararsi meglio a rilasciare implementazioni funzionanti ditemi nei commenti se l'installazione è andata a buon fine e cosa vi aspettate per il prossimo grande aggiornamento atteso per Primavera 2020 noi ci vediamo ad un prossimo video